Villarosa, chi altro abbiamo che non riesce a votare? De Lorenzis, Fabri, qualcun altro non mi pare, dichiaro chiusa la votazione. 240 favorevoli, nessuno contrario, la Camera approva. Comunico che la Presidente della Camera è chiamata a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti il deputato Federico Gelli, in sostituzione del deputato Gennaro Migliore di Missionario. Avverto che con lettera del 17 febbraio 2016 la Presidente della Commissione Giustizia ha rappresentato l'esigenza avanzata al relatore del provvedimento nella seduta del 17 febbraio ed in quella sede, condivise da tutti i gruppi presenti, che la Commissione concluda l'esame in sede del referente della proposta di legge recante e modifica l'articolo 52 del Codice Penale in materia di difesa legittima non prima di giovedì 3 marzo. Conseguentemente, l'esame del provvedimento in assemblea previsto a partire dal lunedì 22 febbraio è differito ad altra data. Do quindi lettura dell'ordine del giorno alla seduta di venerdì 19 febbraio 2016, ore 9, svolgimento di interpellanze urgenti. Abbiamo già concluso la fase di interventi di fine seduta, non so chi chiedeva di intervenire ma non è possibile, la seduta è tolta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.